Vincere per voltare pagina, è questo l'obiettivo della Turris, attesa da una gara di vitale importanza. I Corallini saranno ospiti in casa della Paganese, in quello che si preannuncia un derby dal clima rovente. La squadra di Fabiano, infatti, si vede costretta a portare a casa i tre punti, per cercare di tenere a distanza di sicurezza la zona play-out, che, con i risultati delle ultime settimane, si è avvicinata in maniera pericolosa. Sicuramente i padroni di casa cercheranno di guastiare i piani della squadra di Torre del Greco, visto che un'eventuale vittoria potrebbe aprire scenari interessanti in chiave classifica. Il match si disputerà allo stadio Marcello Torre alle 17.30. Il fischietto sarà affidato a Marco Saia della sezione di Palermo, coadjuvato dagli assistenti identico e Belsanti. Un match che, unito alle prossime partite in programma, rischia di poter indirizzare anche il futuro del tecnico Franco Fabiano. Il solo punto conquistato nelle ultime sei giornate di campionato ed una vittoria che manca da fin troppe settimane, non possono essere visti come una semplice e comprensibile flessione. Ma è chiaro che una vittoria potrebbe scacciare ogni fantasma sulla panchina. Scenario, quello del cambio di guida tecnica da evitare, che potrebbe rendere ancora più arduo il già complicato girone di ritorno. Non potranno essere della partita gli squalificati Reinone e Romano, puniti dal giudice sportivo rispettivamente con due ed una giornata di campionato. Il tecnico si affiderà dunque al resto del gruppo a disposizione, chiamato ad una prova di forza mentale ancora prima che tattica. Grazie a tutti.